Il piano industriale di Banca di Banca di Banca di Banca di Banca di Banca è quello di diventare il polo del private banking del gruppo Carigie. Noi abbiamo 145 anni di storia come banca privata e dal 2005 facciamo parte del gruppo Carigie. Quindi già da alcuni anni disponiamo di una sede a Genova dove operano dei nostri private bankers. Il progetto con l'istituzione del Polo effettivamente si ampia in modo considerevole, quindi apriremo delle nuove filiali che saranno filiali di appoggio per i clienti che da Carige verranno a investire il proprio patrimonio all'interno di Banca Cesare e Ponti, accompagnati anche dai loro private bankers che da Carige verranno a lavorare in Banca Cesare e Ponti. Laddove non ci saranno delle filiali ci saranno comunque dei locali che noi abbiamo chiamato lounge, cioè delle sale attrezzate e caratterizzate con il marchio Ponti, dove i nostri colleghi saranno in grado a questo punto di accogliere i clienti in Banca Ponti nonostante non ci sia una filiale tradizionale, ma semplicemente una filiale che opererà fuori sede nei locali del gruppo Carige.